Quello che oggi era importante fare qui a Novara era ribadire che la TAV fa rima con verde, fa rima con ambiente, fa rima con tutela dell'ambiente, che è l'esatto contrario di una certa vulgata che qualcuno ha voluto trasmettere nell'opinione pubblica. Il treno inquina meno della gomma, inquina meno di un camion, e questo mi pare naturale, e attraverso questa percezione noi dobbiamo trasmettere sempre di più nell'opinione pubblica e anche nelle nostre scuole, ai nostri ragazzi che quest'opera è un'opera fondamentale per il futuro loro, della loro attività professionale, ma soprattutto per il futuro del Piemonte, della terra in cui vivono.